Hello guys, io sono Shen e siamo qui su un nuovo free to play chiamato Merching Simulator. Quindi soldati preparatevi tutti quanti perché inizieremo a marciare come un'unica unità. Quindi, prima di iniziare, ovviamente è necessario fare il tutorial per capire a che cavolo di free to play stiamo andando incontro. Quindi, Goku 2 Tutorial. E non ho più parere di che cavolo devo fare, quindi no. Ok. Nostro il cadetto. Name Y. Abort Face. Ok. Abbiamo la faccia. Perfetto. Poi cosa dobbiamo fare? Present Arms. Perfetto. Bravissimo. Order Arms. Quindi torna normale. Flight Face. Quindi si gira a destra. Left Face. Si gira a sinistra. Si controlla normale. Forward March. Quindi inizia a marciare. Left Flank. Quindi gira a sinistra. Flight Flank March. Quindi gira a destra. To the rear. Quindi torna indietro. Flight Halt. Tutti fermi. E siamo pronti. Ok. Forward March. Left. Right. Left. Right. Left. Left. Flight Halt. Tutti fermi. Ok. Abort Face. Abort Face. Guardatemi. Quindi. Left Face. Proprio girarli. Right Face. Quella T. Perfetto. Perfetto. Beh. Ok. Hide. Command. Button. Hide. Incale. Hide. Next. Ok. Qui cosa... Forward March. Left. Right. Left. Right. Ok. Quindi. Adesso. Cosa dobbiamo fare? Columbo. Right. Marche. Ah. La diagonale. Forward Marche. Sono abbastanza confuso. Ok. Abbiamo finito. Quindi questo era il tutorial di come si marcia. Qualify. Drill. Evalutation. È momento di allenarci. Signori. Present. Arm. Perfetto. Tutti in posizione. Momento. Di. Marciare. Partita. E parte una musica molto particolare. Tutti fermi. Ok. Adesso. Avvenuto. Avvi. Eh. Eh. Ah. Ho. Ho capito. Scusate. Scusate. Che facciamo? E... Analyche. Mi viene l'elenco delle cose che devo fare all'interno della questa. all'interno del del della bar dell'arena ok iniziate a muovermi perfetto adesso fermi presentatevi bravissimi poteriar 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 poteriarli 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 esattamente dentro. Ok. Fermi. Faccia a destra. E adesso? C'è fatto tutto. Ah, devo uscire dalla zona di controllo. Ah, ok, funziona così. È stato abbastanza particolare. Ho anche cambiato il loro, il loro bellissimo, fantasticissimo stile di vestiario. Quindi questo in sintesi è Marche Simulator, un minigioco nel quale dobbiamo far fare delle cose a questi soldati. Per l'emotivo, non si sa, però. Ok, presentatevi. Right Face, Right Face, Right Face, Present Arms, Order Arms, Column Left. Ok. Ho finito. Quindi questo, ragazzi, era praticamente Marching Simulator, un free-to-play che ci fa marciare. Niente di più, niente di meno. È un simpatissimo minigioco che ho voluto testare, ma sì, perché effettivamente non sapevo che free-to-play fare al momento, quindi ho voluto provare questa cosa un po' particolare. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia minimamente piaciuto, perché dai, è un giochino abbastanza simpatico. Niente di che, vi intertiene con 5 minuti di tempo che intiate capire la propria funzione, poi... Fermatemi. Sì, che poi vi lascia un buon senso di... di disagio, perché... non è niente di che. Diciamo un'ultima... Ok, dai, lasciamo stare, ragazzi. Ok. Come stai dicendo, spero che questo minigioco vi sia minimamente piaciuto. Vi invito a lasciare un like, un commentino e di seguirmi per il prossimo video. Quindi, da Shen e Marching Simulator è tutto. Arrivederci, soldati! Alla prossima marciata a tutti quanti, insieme, appassionatamente. Bye bye! Ciao! Perché porto tutturi del genere? Perché non gioco qualche free-to-play serio? Tipo... Non so cosa portare... Alla prossima! No da ora apposta a tutti quanti, appassionate Ah, ciao! Grazie.